Le pizze di oggi sono due pizze fritte, due pizze bianche ovviamente e che quindi rappresentano un po' il saper bere con il prosecco. Una è una vecchia pizza napoletana, della tradizione napoletana, la pizza che mangiavano più spesso tra virgolette i poveri ed è prova l'affumicata che poi sarebbe un fiore di latte dei monti lattari affumicato a paglia, pecorino, basilico e pochissimo pomodoro e sale. L'altra invece è una pizza che io ho dedicato a Maiori proprio perché è fatta con molti prodotti della costita amalfitana, tra cui la ricotta di bufala, fiori di zucca, alici di cetara e una grattata di limoni da malfi, zeste da malfi come vogliamo chiamarlo. Entrambi sono due pizze che secondo me con il prosecco sposa in un modo meraviglioso, grazie a tutti.